terza pagina magazine contro il grande maestro mogol per una riflessione molto culturale un grande evento che merita la massima attenzione maestro che ne pensa della cultura portata nei posti dove è difficile che si diffonda di questi progetti che vengono sviluppati era una bella idea importante perché dove c'è bisogno di cultura è ancora meglio nel senso è una fonte di apprendimento laddove non c'era magari la possibilità di farlo quindi io mi congratulo con la dottoressa per quello che sta facendo che coinvolge giovani coinvolge artisti giovani artisti per diventare più importanti no più bravi e anche una parte della città no nel senso che un po di luce dove non c'era non 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 Grazie per la visione!